I carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno messo fine ad un'ennesima storia di violenza domestica allontanando un uomo dalla casa dei genitori. Maltrattamenti, minacce e rapina e questa è la triste sequenza di azioni che l'uomo nel corso del tempo ha messo in atto nei confronti della madre che dopo un lungo periodo di soprussi stanca della situazione ha trovato finalmente il coraggio di denunciare il proprio figlio trentenne. La donna disperata di vivere quotidianamente in un clima di terrore a chisso aiuto ai carabinieri. Gli uomini dell'arma in seguito alla denuncia della donna hanno messo in atto un'attenta e riservata attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Avellino durante la quale sono state raccolte prove documentali e sono stati ascoltati testimoni che hanno permesso di ricostruire date, luoghi e modalità esecutive con cui si erano consumati maltrattamenti subiti dalla donna da parte del figlio al fine di ottenere denaro. In una circostanza l'uomo ha anche strappato con violenza il cellulare dalle mani della donna per poi rivenderlo. Al termine dell'indagine i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina hanno dato issecuzione all'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa.